guardiamo vai staglia attenzione chi è questo? Oscar andava sopra ora dice uè bello fammi spostare uè ancora? uè mi sto muovendo fammi passare uè movimento d'anca uè le uè uè le uè uè le uè fammi passare bello e dopo si alzano questo è uno dei vari bug di FIFA 13 guarda bello vedo in faccia annusa annusa ha il movimento di Oscar sexy rallentato e velocizato che bello quando muove il corpo uè uh uè uè